Tutti proprio, uomini, donne, bambini, tutti vogliono Luca Walsh. Tutti vogliono Luca Walsh. Ma com'è? Ma nessuno se lo via, amica, non è mai. Ciao, grazie. Non passa mai di moda. Non passa mai di moda. Da quando hai fatto mamma mia, proprio, sei tornato agli antichi splendori. Sei il più sbronso dei noix. Esatto, dei poveri. No, che dei poveri. E beh, l'Italia, 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 l'Italia. L'Italia sia fantastica. Eh? Sì. Non mi ci ha portato al cinema, ma mi ci ha portato alla radio. Eh, vabbè, scusa. È una cosa strana, no? No, però mi sembra che comunque tu sia legittimamente qui, in quanto dai la voce a tanti grandi attori americani. A qualcuno, a qualcuno, dai. Tipo? E che ne so, Keanu Reeves, Samuel Jensen, Hugh Grant, Russell Crowe. Dunque, guarda. Che più ne ha più ne ha più ne ha. Pierce Brosnan, 006. A furor di popolo, Luca Ward, numero uno, The Boys. Magari, l'hai detto tu. installistico. Assoluta rafforzata 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 rafforza bijvoorbeeldрупna per black clientele.